Allora se non è un record poco ci manca, mi riferisco alla tiratura ma anche al successo straordinario che ha avuto questo francobollo. Al successo straordinario del francobollo, del folder che abbiamo messo in vendita da pochissimi giorni e che già ha raggiunto dei livelli incredibili di vendita, della moneta che abbiamo fatto insieme alla Zecca dello Stato subito dopo l'ultima partita del Napoli campione d'Italia che abbiamo praticamente in vendita anche qui nel nostro negozio a Castel di Sangro. Tra l'altro una novità assoluta, qui a Castel di Sangro abbiamo fatto il bundle moneta più folder a un prezzo scontatissimo per i tifosi del Napoli e a tiratura limitatissima. I prodotti del Napoli tirano, i tifosi del Napoli sono particolarmente attenti a queste cose e quindi siamo contenti di essere qui per soddisfare le loro richieste.